Ciao a tutti! Oggi sono a Bagheria e precisamente davanti Villa Palagonia. Biu, guardate quanto è bella! Questa villa venne fatta costruire da Ferdinando Francesco I nel 1700 e fu soprannominata la Villa dei Mostri a causa di tutte le statue che ornano il prospetto. Pensate che Bagheria è anche chiamata la città delle ville e ha dato i Natali a tantissimi uomini illustri fra cui il regista Giuseppe Tornatore, il poeta Ignazio Buttitta e il pittore Renato Guttuso. Biu, venite a visitarla!